Cosa vuol dire giocarci? E' sicuramente, sarà sicuramente la nostra arma in più, quindi un ringraziamento all'amministrazione con la quale sin dal primo giorno in cui sono entrato in questo incarico ho avuto un rapporto costante, anche se probabilmente diverso, senza troppi annunci, senza troppi proclami, senza troppi articoli, ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di arrivare ai risultati in tutto. La squadra è abituata a fare questo tutti gli anni, per questo vince, perché si parla poco, si allena di più degli altri e si cerca di arrivare ai risultati. I costi non è semplicissimo ad oggi, vista la condizione abbastanza tragica di alcune parti della piscina, però si è ipotizzato un investimento sui 500 mila euro che sarà sicuramente modificabile, perché probabilmente man mano che riusciremo a entrare a capire bene con le analisi che già in parte sono state fatte, toccheremo proprio con mano quelle che sono le criticità maggiori, però insomma riporteremo questa piscina a splendere, sarà sicuramente una piscina fantastica come lo era, anzi meglio di prima.